Perché le stelle brillano? Fin dall'alba dei tempi, uomini e donne di tutto il mondo hanno rivolto gli occhi al cielo, interrogandosi sui segreti degli astri. Ma da oggi, grazie a uno studio pubblicato su Nature, sappiamo qualcosina in più su come funziona l'universo. Stiamo parlando dell'esperimento Borexino, che ai laboratori nazionali del Gran Sasso ha dimostrato, per la prima volta al mondo, uno dei due meccanismi di produzione d'energia all'interno di stelle come il Sole. Dopo aver studiato il meccanismo cosiddetto catena-protone-protone, si è giunti ora alla prova sperimentale di quello che coinvolge elementi più pesanti. Questo secondo meccanismo è presente nel Sole per l'1%, ma è predominante nelle stelle più grandi. È un meccanismo che coinvolge processi nucleari e la trasformazione di idrogeno in elio, tramite la partecipazione a questi processi di fusione di elementi quali il carbonio, l'azoto e l'ossigeno. Il tutto è nato dall'intuizione di due astrofisici tedeschi che nel 1938 ipotizzarono che la fusione nucleare è alla base dell'energia prodotta nelle stelle, consentendo a queste di brillare per miliardi di anni. 80 anni dopo, grazie alla tecnologia dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare nel cuore della montagna abruzzese, un team internazionale di ricercatori, ingegneri e tecnici è giunto alla prova sperimentale di quanto ipotizzato diversi decenni or sono. Questo ci aiuterà a capire meglio il ruolo dei nuclei pesanti all'interno delle stelle e chissà se studiando l'energia stellare un giorno riusciremo a elaborare nuovi modi di produzione energetica anche qui sulla Terra. Produrre energia attraverso la fusione e non la fissione nucleare è un'ambizione alla quale molti lavorano da decenni e il problema per quanto mi riguarda è importante, i meccanismi sono noti. Il problema è confinare e mantenere stabile una quantità di materia ad una temperatura di 10 milioni di gradi per tempi lunghi e in un volume piccolo. Forse un giorno c'è, io spero che un giorno ci riusciremo ad ottenere questo ambizioso risultato. Questa prima prova sperimentale è un risultato storico che fa dell'Abruzzo il sole del sistema della ricerca scientifica, ricerca scientifica che in Italia non sempre è valorizzata quanto si dovrebbe, ma i laboratori del Gran Sasso in questo rappresentano un presidio resiliente per i ricercatori di tutto il mondo. Il laboratorio del Gran Sasso è uno dei centri in cui c'è non l'effetto opposto della cosiddetta fuga dei cervelli, cioè noi abbiamo ricercatori che vengono dall'Italia, abbiamo ricercatori stranieri nello staff del laboratorio del Gran Sasso, quindi questo è uno dei parametri che misura l'eccellenza di questo centro di ricerca. Grazie a tutti.